Rieccoci in studio con diverse prime pagine arrivate già in redazione. Ovviamente si parla di politica, delle conseguenze del voto europeo dell'8 e del 9 di giugno. Andiamo al mattino di Puglia e Basilicata. De Caro e Vannacci, gli antimeloni con Giorgia domina l'Italia, tranne Puglia, Campania, Toscana e Emilia. Se i pugliesi sul treno per l'Europa, nessun Lucano stacca il biglietto. Forza Italia mira a raccogliere i resti delle macerie di calenderenze e poi sale e seletta con Alleanza. Verdi e Sinistra e poi il G7 in Puglia, in Corona, Giorgia e Regina. Il Papa Borgo Ignazia, venerdì pomeriggio, regione super blindata dalle prefetture. Così il mattino.